Ciao a tutti amici di YouTube, in questo video vediamo come attivare la funzione condividi in Windows 10, ma se cercate altri trucchi, suggerimenti e personalizzazioni per questo sistema vi invito a seguire la mia playlist a riguardo. Detto ciò iniziamo. Su Windows 8 esiste una comoda funzione per condividere velocemente i nostri contenuti, ma nella versione 10 purtroppo è stata nascosta. Per abilitarla di default seguite correttamente questi passaggi. Apriamo il nostro amato registro di sistema, navigate nel percorso lasciato in descrizione, creiamo una nuova chiave di Word a 32-bit nominata Enable Share Settings, postiamo un valore S decimale 1 e chiudiamo il Regedit. A questo punto richiamoci nell'app impostazione nella sezione Sistema e vedremo la nuova tab chiamata appunto Condivisione. Per nascondere la funzione vi basterà naturalmente eliminare la chiave creata. Per rimanere sempre aggiornato sul canale ti consiglio di iscriverti ed attivare le notifiche.